...fanno molto quella, quel romanticismo da tu, io, no, guarda guardate, guardate, guardatela ...fanno molto herederà ...fanno molto herederà ...fanno molto herederà Canestro 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 di Oca Fotto canestro Fotto canestro Di rimbalzo Perfetto E lì dove devi stare E lì è dove devi stare Allora non è male Però quello che voglio dire È che volete fare un pezzo Punk rock Porca puttana Levate le batterie Trap Tu dici Però è un mix È un mix Ma non mi piacciono i mix O fai una cosa E fai l'altra Cioè basta C'è stato Basta Basta dici così Basta Se no non fai Mi piace Inizio a fare Sono davvero serio Sono davvero davvero serio Mille tic No no Quando vado a dormire Inizio a fare No Mi alzo Cioè se no Fai un altro tic Che tuo particolare E che ne faccio un altro Più particolare Potresti mostrarlo Sì se vuoi Però Io lo voglio un sacco Ma è una cosa normale Vai È così Molto simmetrico Sì sì è una cosa Che mi aiuta Però sembra quasi Un allenamento I medici sono asimmetrici Tipo Tu hai fatto un discorso Io non ho mai fatto Questo discorso Tutti Forse è anche pericoloso Ma tanto sono nel Canale d'Italia Ma al massimo Non lavoro più Con Prime Video Prima tu hai fatto Un discorso Molto interessante Porca troia Ragazzi Siete pronti? Vado Cazzo è successo? Ah è qua È piccolo fail Piccolo fail C'era da premere sopra Piccolo fail Ci sta Era un pic Non l'abbiamo mai fatto Un mayday tecnico C'era da fare Avanti E poi Quindi si torna indietro Non lo sapevamo Si torna indietro Scusate Si torna indietro Facciamo finta Che non è successo niente Dai Se no Magari esce male La clip Il video Non facciamo porcate Nessuno si è accorto di niente Dai Non rompiamo il cazzo Dai via Non lo sapevamo Non lo sapevamo Sì eh Oh 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 C'è un Mercedes C'è un Mercedes Che di rompo il cazzo C'è Benz Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Ma chi è? Questo va vestito di bianco Ehi Io sei Ciao Ciao Io sono un Alcortolore N'ospedale prima Ma io Stavo sparando Stavo sparando Oh aiuto Ma dove è qui? Che ho? Stanno sparando Stanno sparando Ma chi è che è sparando? Non lo sapevamo Non lo sapevamo Non lo sapevamo Ma dove è che è sparato? E c'era un Mercedes Stai su Stai su Stai su Dai stai su Outlook Gimenti Sì sì Tutto il Outlook Notifiche Notifiche Sì 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 Le emoticon Adesso le hai trovato molto Sentirai del timore Ma non preoccuparti No no vai vai Tranquillo Più che altro Io mi sono sempre chiesto Io sono una persona Molto ansiosa Quando si trova Quando mi ritrovo Magari a No dicevi Allora se vuoi Ti faccio vedere Qua sotto Che succede Se lo faccio a me Dai prova un attimo Faccio io Marco Se no Ok Siamo arrivati Ce l'abbiamo fatta Finalmente ragazzi Salve Cosa scusi? Verifica del biglietto Grazie Eh l'ho mangiato Caro Devo andare scusami Sto lavorando Senta L'ha mangiato che cosa Dal biglietto? Sì adesso Non ci prendiamo in giro No Sto lavorando scusi Senta Vuole aggredire? No Sto qui Siamo fuori dal tram E l'ho mangiato caro Lei ha mangiato il biglietto? Sì devo andare carissimo Sto lavorando Non sa che c'è la palizia qua dietro? Stia bene È un controllo Siamo dei pubblici ufficiali Ok ciao caro Sto lavorando carissimo Devo andare a lavorare Scusami Ragazzi non si può però Io devo lavorare Perdere tempo Su tempo Perdere tempo Ciao Ma Oddio Guardali audio Mun Buongiorno Ok io ora sono un po' in ansia Mi hanno fatto Senza serio cazzo No No cazzo Mi sono appena Verda Ok un secondo Io Dove? Arrivo 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 Scusate Cioè Mi sono appena Mi sono un attimo Come stai? Mi sono un secondo emozionato Io Mi è ripiglio L'ultima cosa ha fatto John Landis è la video cinema era nel 2010 era Buck and Hare mi sembra non spero non hai detto il nome sbagliato che era ladri di cadaveri Sì è bellissimo Cerca un attimo un panno ragazzi Oh Una pezza Ma questa l'ho capita è un riferimento al programma che ho fatto io Dario Vai a cercare No no io l'ho capita ci ho messo un po' ma E anche noi con Simon Pegg Sì Vogliono che fa il ciccioburger comunque Ma no raga il ciccioburger l'ha fatto il ciccio Cosa? Doveva essere Ma anche di beef secondo me è un bravo ragazzo anche lui Boh porco due Cioè gioia c'aveva 30 persone Eric ce ne aveva 100 Le spinti un bot e si comportano così Non è bello Quanto adesso quante ne ha? Boh 200 E va beh la classica poltrona per due L'avrò vista 70.000 volte Ah ok quindi un film di Landis almeno te lo sei visto Sì 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 E poi ho questo ricordo che non ho idea di come si chiami Mi sono dimenticato di googolare Sì ora forse te l'ho visto fare un cicchio effettivamente Quale? Quello degli occhi che mi ha detto prima Yagi No Sì l'ha fatto Scusate se avete visto No non volevo disturbarvi Più che mi sento veramente Magari fare un film quando si era parlato Che ne so Facciamo il film su Peter Pan E rendiamo quel personaggio là Conosciuto come un personaggio bianco Lo rendiamo nero La gente pensa che facendo così Fai molto più luce sulla black culture E soprattutto sensibilizzi sul fatto che Che ci fa se cambi un personaggio Ti dico come la penso io A mio parere Che ci fa se cambi un personaggio